Una e-mail firmata direttamente dal sindaco. Se la sono ritrovata nella propria casella di posta elettronica in queste ore i dipendenti comunali di Alessandria. Una comunicazione senza intermediari per dire che la situazione a Palazzo Rosso è davvero grave e che i soldi non ci sono proprio. Rita Rossa inizia con il chiedere scusa per aver mancato a un impegno preso nei primi giorni del mandato, ossia tenere una stretta comunicazione con la struttura, specialmente in un momento così delicato per l'ente e la città. Eppure, dice, in questi giorni sto tentando ogni strada possibile per avere risposte che diano liquidità di cassa e che consentano a realizzarsi di un diritto costituzionale e sacrosanto, avere la propria retribuzione. In effetti il 27 si avvicina inesorabile e i flussi di cassa, ovvero i fondi che sono in concreto presenti nelle casse comunali, allo stato attuale non permettono di pagare gli stipendi a tutti. Per ora sono state vincolate solo le somme per il versamento dei contributi. Con i sindacati e l'RSU, Continua Rita Rossa, terrò stretti contatti, anche giornalieri, per comunicare ogni variazione nei flussi di cassa e ogni eventuale difficoltà. La Corte dei Conti ci ha costretto la dichiarazione del dissesto, ma questo non può essere il terreno sul quale sancire che i sacrifici e le conseguenze di questa situazione siano solo sulle spalle dei cittadini, dei lavoratori e dei dipendenti. E poi, conclude, il nostro dissesto è tutto sulla parte corrente e oggi, senza aiuti e senza liquidità, siamo nell'impossibilità di garantire i servizi minimi. Sono impegnati in una battaglia a tutto campo e sono certa della vostra comprensione. È chiaro dunque che a Palazzo Rosso la situazione si fa sempre più complessa e che il sindaco, quotidianamente impegnata sulle emergenze, è costretto a rivolgersi direttamente anche ai dipendenti comunali, che tradizionalmente sono tra i principali costruttori dell'opinione pubblica in città. Giovedì sera ci sarà l'annunciata fiaccolata organizzata dai sindacati ed è chiaro che Palazzo Rosso intende in questo modo aumentare la pressione politica sulla prefettura e sul governo, nella speranza che un qualche aiuto arrivi almeno da Roma.